Senti, gioia mia, come nasci, Stella? Ah, già, come nascio io? Sì. Nascio come nasci gli altri, no? No, vuol dire che nasce bene, sai, nasce benissimo. È una grandissima famiglia brasiliana. Sì, eravamo 14 figli. Oh, che divertente! No, scherza, scherza, era una famiglia che aveva un sacco di fazzende. Fazzende? Sì, sì. Sì, ognuno si fa la fazzende sua, no? Io mi faccio la fazzende mia e dove fai le fazzende due? Senti, adesso da dove vieni? Da Copacabana? Da dove? Copacabana. Copacabana? Che campacabana? Io vengo da Caglianello. Caglianello, dov'è? Caglianello dov'è? Teano, Frosinone? No, Caglianello. Caglianello, hello. Caglianello, hello. Caglianello, bagno penale, che divertente. Caglianello, come turista. E vorrei qualche cosa da masticare? Ah, poverino, ha fame. Senti, ecco, fazzola, volpe tolarti. No, fazzola, fame. Appetito. Senti, andiamogli a preparare due vitamine, forzoline. Senti, altra idea. Sì, sì, due vitamine. Che forzoline, che forzoline. Ragazzi, ho deciso, io resto. Oh, bello. Forse è di amoroso, questo dito. Ma mi dici a che servono queste vitamine? Servono al posto del pranzo perché qui non esci a mangiare. Ah, sì, non esci a mangiare, perché qui non si mangia, si salta. Ma io me ne vado. Ma tu? Ma io me ne vado. Un momento dove vuole andare. Vado a osservare dove sta la serva. A proposito, dove sta la serva? Ho capito, questo è un ambiente troppo raffinato per lei. Ma sì? E allora perché mi ci avete portato? Perché lei serve a noi e noi serviamo a lei. Ma sì? Ma la serva non serve mai, però. Ma no, cosa c'entra la serva? Dove sta la serva? C'entra la serva. La serva è atomica, la serva è gagliarda. Guardi che la serva è consigliabile. Ma cos'è? E' viva dei Girardengo? Il Girardengo, il bar portatile, no? Questo qui, il bar portatile. Tu dai il caffè all'altro Ciccetti. Buon caffè. Ti piace i caffè, Nini? Tanto bene. Bravo, l'ho chiamato. Ciriola? Ciccini. Ma chi l'ha fatto, sto caffè? L'ho fatto io, perché non è buono. E' una ciofeca. E' una chi? Una ciofeca! Ciofeca! Io proprio ciofeca no. E' una schifezza. Divertente. Senti, Nani, tu che hai viaggiato tanto, che fai un sacco di cose. Dimmi, cala. Dimmi un po' i tuoi gusti, informami, deve essere così interessante. Voi sapete i miei gusti? Sì, cosa ti piace, Nani? Sì, cosa ti piace? Dai, ti prego. No, non lo posso dire. Sì, informaci. Cosa ti piace a me? Sì. No, lasciamo perdere. No, 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 lo devi dire, assolutamente. Lo vogliono proprio sapere? Sì. Sì? Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lo dico ma io decolino, eh? A me mi piace la serba. Ah, che simpatico! A me mi piace la serba. Ma se ti dico a me la serba mi piace, eh? A me la serba mi piace. Oh, senza. Ho guardato. Sì. Aiuto! Che paura! Oh, 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 oh. Ha avuto paura? E come no? E di che? E come di che? Oh. Di questo quadro? Eh già. Ma è un Picasso. Cos'è questo? Siete un'imitazione di Picasso. Ho questo qui? Imitazione di Picasso. Oui. Picasso. Picasso. Questo qui? A me è naturalmente. Picasso. E chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi. Lei? Oui, moi. Véramont? Véramont vuole dire. Va bene, lasci fare. Véramont l'ha fatto lei? Sì. Parola d'onore? Sì, sì, sì. Mi dia la mano. Veramente l'ha fatto lei? Certamente. Bravo! La scienza va premiata. Ora tutti a me. Una sedia e un tovagliolo. Venga qui. Che caro. Lei l'ha fatto? Sì. Guardate una sedia. Su. Su. Cos'è? La scienza è qua. La scienza è qua. Il tovagliolo per cortesia. Eccolo qua. Così va bene? Grazie. Benissimo. Sai, io sono generoso, magnante. Grazie. A me piace premiare il talento. Ecco. Vi dia le marine? Mi tengo la testa così. E no, fermo. Ecco, gliela tengo così. Forte. Forte, forte, forte. Mi dia la marina sua? Sì. Ecco, si copre quest'occhio qui. Così. Ci vede da quest'occhio? No. Lei con il pimmice e pomice mi fa la cortesia e mi allarga quest'occhio. Ecco. Fermo, eh? Lei vede qua? Sì. Vede bene? Sì, sì. Allora fermo, eh? Fisso, eh? Fisso qui, eh? Ecco qua. Troppo divertente! Cos'è? Rosario? Oh, no, no! Oh, no! No. Oh, Julieta! Oh. Grazie a tutti.